Collezione di carte telefoniche di automobili e moto d'epoca della Polizia di Stato Italiana Questa è una collezione di carte telefone che è uscita nel 2006 Questa è una collezione di carte telefone che è uscita nel 2006 Questa è una collezione di carte telefone che è uscita nel 2012